Se vi servono crediti, passate dal link in descrizione e con il codice MENZMR avrete subito un 5% di sconto. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io MENZ, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo arrivati qui, siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter. Buona domenica a tutti ragazzi, perché oggi è domenica, spero che questo episodio eschi di domenica. Vi ricordo però, signori, di seguirmi sui social network, come ogni volta, sotto in descrizione, link alla pagina Facebook e al profilo Instagram. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, però non perdetevi l'episodio che è uscito giovedì appena passato, perché abbiamo giocato l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Arsenal, ve lo lascerò qui a schermo. Non perdetevelo, perché è un episodio davvero, davvero importantissimo. E volevo parlarvi anche un attimo degli episodi che voglio fare settimanalmente, perché mi avete chiesto in tantissimi di portarlo almeno 2-3 volte a settimana, ma ragazzi, io praticamente faccio l'università, vado all'università e vado all'università tutti i giorni, tutto il giorno. Quindi esco di casa alle 7 e mi torno a casa alle 6 e mezzo di sera. E quindi capite che è difficilissimo portare 3 episodi della carriera dell'allenatore che mi richiedono un'ora e mezza, due ore di registrazione, più altrettante di montaggio, rendering e caricamento sul canale. Quindi faccio già fatica a portarne 2 a settimana. Quando riesco ve lo porto, se no continuiamo a cadenza settimanale ogni domenica. In più oggi saluto un po' di persone. Saluto Non posso leggere mai più sotto nei commenti che copio FIFA Hit, perché se no vi insulto o vi elimino o vi blocco, perché se mi dite che copio FIFA Hit, allora adesso andate nel suo canale e ditegli copio mezzo. Perché ha comprato Griezmann? Allora non mi scassate la minchia perché ci assomigliano. A parte che non ci assomigliamo per niente, abbiamo due stili totalmente diversi, ma allora dato che ha comprato Griezmann e io l'ho comprato due anni fa, voglio che gli andate a rompere i coglioni, anche a lui. Ovviamente sto scherzando ragazzi, però per farvi capire che quello che fate non ha assolutamente senso. Quando venite a dirmi che copio una determinata persona non ha assolutamente senso. Oggi ragazzi è un episodio davvero pieno, perché andiamo a giocarci la partita di campionato contro il Genoa, ritorno di Champions League dei quarti contro l'Arsenal, e vedremo se potremo continuare la nostra scalata verso il triplete, Chievo e poi semifinale di ritorno contro il Milan. All'andata mi sembra abbiamo vinto 2 a 0. E quindi stacchiamo il pass, proviamo a staccare il pass per le semifinali di Champions League e per la finale di Coppa Italia. E non sarebbe assolutamente male. Ho visto una cosa qui pazzesca, inizio difficile per Oziakup nella squadra Inter, ragazzi, veramente. Sta facendo tutto il possibile e si sta dimostrando davvero un grandissimo giocatore, quindi non capisco questa cosa. Oziakup sta giocando davvero davvero molto bene. Dove fare un po' di cambi, per esempio, la linea difensiva... Ragazzi, c'è subito la partita con l'Arsenal dopo, quindi la linea difensiva va cambiata tutta. Qua il turnover è assolutamente d'obbligo, assolutamente d'obbligo. Ah, perfetto. Teyes e con Dogpia non possono giocare, sono espulsi. Ah, io faccio giocare Di Marco, non posso rischiare Shaw. Non posso assolutamente rischiare Shaw. Come non posso rischiare Musacchio e Varane, che si facciano male, e quindi Andreolli e Murillo. Ma io in realtà metterai Florenzi al posto di Oziakup, perché a Florenzi mi può fare il CC, quindi secondo me può andare questa cosa, signori. Oziakup ha bisogno di riprendersi, perché se non controllarsela non ce la può fare. Ok, ragazzi, una formazione davvero abbastanza rischiosa, ma possiamo permettercelo, sinceramente. Possiamo assolutamente permettercelo in vista della partita contro l'Arsenal. Contro l'Arsenal perché sarà una partita davvero molto importante, abbiamo bisogno di tutti al top. Ovviamente tengo Lewandowski in campo, sperando che la situazione si metta bene subito, ma nel caso poi lo sostituirò, perché anche lui comunque ha bisogno di riposare, semplicemente. E San Siro sotto la pioggia oggi ospita Inter Genoa. Sotto la pioggia in realtà non sta piovendo, sì, ok, sta piovendo. Inter Genoa, abbiamo 8 punti di vantaggio dalla Lassi, ma questo comunque non ci deve sconcentrare dalla partita di oggi. Sempre sul pezzo e forza Inter. Qua Iago Falchi se ne va benissimo, ma Di Marco, che però è molto veloce, ragazzi, è molto veloce Di Marco. Guardate, l'ha già ripreso, sicuramente mancherà di tecnica, infatti Iago Falchi se ne va di nuovo. Iago Falchi la mette in mezzo, Nardi, probabilmente la toglie dallo specchio. Grande palla rubata da Montoya. Tielemans per De Ulufeu, che prova il tiro da fuori, un tiro imbalazzante. Praticamente ha rimbalazzato addirittura prima di andare fuori dal campo. Siamo quasi al trentesimo del primo tempo, partita comunque combattutissima a centrocampo. Lewandowski per De Ulufeu, subito per Paco Alcassar, che rientra sul destro, chiuso da Isso. Chiuso da Isso, si chiudono sempre. Sta facendo una gran partita la difesa del Genoa. L'ha finito il primo tempo, De Pai se ne va. Lewandowski, Lewandowski, può metterlo in mezzo perché c'è Paco Alcassar, che è un buonissimo staccatore! Traversa di Paco Alcassar, incredibile. Aveva preso il tempo al centrale. Di Marco, attenzione a Di Marco. Steccato. De Ulufeu. Va Memphis, De Pai da fuori! Non ci credo! Che gol ha fatto De Pai! Una punizione che non ho visto, ma saranno 25-28 metri. Da lontanissimo. L'ha messa all'incrocio dei pali. Incredibile, incredibile. Che gol che ha fatto. Li vediamo da qua. Non angolatissima, per in forse non la vede partire. Ma comunque è... L'ha messa lì. Non è facile comunque metterla. Oh! Oh! Nardi! Parata! Doppia parata di Nardi! Iago Falche! Ancora Nardi! Mamma mia, ragazzi, voi non immaginate cosa è successo. Ormai Androli si faceva l'autogol più clamoroso della storia. Per mercoledì, attenzione, perché qui i pavoletti c'è un buco di culo incredibile. Ma Nardi, Nardi. Ci sta tenendo a galla. E qui ovviamente non è gol. Cioè, a parata semplicemente. Cinque minuti di più recupero alla fine del match. Ma non possiamo lasciare Di Marco come ultimo uomo. Ma invece fa una gran cosa. Longo. De Pai. Di nuovo per Longo! Che prova il tiro! Aveva tirato una cannonata incredibile. Oh! Stavo per tirare con Di Marco. Ma finisce qui. 1-0 per noi. Il minimo indispensabile. E adesso testa all'Arsenal. Testa all'Arsenal. Il posto di De Pai metto Felipe Anderson. E il resto è la formazione titolare. Titolarissima. È sereno. Speriamo bene. Speriamo che ci porti fortuna. Questa partita vale una stagione, ragazzi. Vale una stagione perché abbiamo fatto tanta fatica per arrivare fino qui. E sarebbe un peccato uscire comunque con un 2-1 casalingo che non è per niente male. Visto come si era messo abbiamo segnato all'89esimo all'andata. Qui l'Emirates Stadium è una bolgia. Arsenal-Inter. Dobbiamo pensare a come tenere l'Arsenal sulle fasce. Dobbiamo provare il raddoppio sempre e fermare quei due pazzi di Sanchez, Ozil e Compagnia Bella. Oggi ci affidiamo soprattutto anche a te Lewandowski. Un gol ce lo devi insaccare per forza. Questa è la formazione. dell'Arsenal identica a quella dell'andata. La nostra la conosciamo già. Sempre sul pezzo, ragazzi. E forza Inter. Largo per Welbeck. Chiuso però da Musacchio. Poi qui Welbeck si allunga il pallone. Attenzione perché Musacchio perde un bruttissimo pallone. Attenzione. Welbeck entra in aria. Chiuso a Tilevans. Poi su Casorla Nardi. Ottima parata. Ma qui abbiamo rischiato. E poi Ozil e Compagnia aspetta l'arrivo di Felipe Anderson. Adesso può andare in velocità. Felipe Anderson. Felipe Anderson. C'è Lewandowski. Che rientra sul destro. Lewandowski. Check. Che miracolo. Che miracolo di check. Dobbiamo provare a segnare almeno un gol. Almeno un gol. Perché l'1-0 all'Arsenal basta. Felipe Anderson. Bella palla per Cialanoglu. Cialanoglu. La finta di Akan Cialanoglu. Il tiro di Cialanoglu. Centrale. Cazzo. Bella palla per ancora Felipe Anderson. No, è Tilevans. La tiene in campo Tilevans. Tilevans. Si fa vedere adesso Lewandowski. Che prova il tiro di Mancino. Centrale. Il primo tempo passa in denne. Finisce 0-0 il primo tempo. Stiamo difendendo alla grande. Meritavamo qualcosa in più. Però non ci può bastare questa 0-0. È troppo rischioso. Lewandowski. Per Oziakup. Oziakup. Entra in area. Oziakup. Fammelo sto cazzo di gol. Oziakup. Vede partire Felipe Anderson. Ed è una palla perfetta. Andare Felipe Anderson. Entra in area Anderson. C'è in mezzo Cialanoglu. Che prova il volo di Mancino. Ancora check. Tilevans. Bella palla per Cialanoglu. Davanti a check. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Tilevans. Per Cialanoglu. Giro. Eccolo Cialanoglu. 1-0. 1-0 Cialanoglu. Dopo il terzo gol magnato. Il quarto l'ha buttato dentro. Qui Tilevans. Gira attorno all'aria. Piazza Cialanoglu. Finalmente. L'ha piazzata. Porca puttana. Grande Akan. Grande Akan. 3-1. 3-1. Siamo un pelo più sicuri così. Santi Cazorla la mette in mezzo. Musacchio. Oziacop. Per Cialanoglu che c'è sul destro. Check. Che parata. Che parata. Ma Ciala. Cosa ti è capitato? Ti sei ripreso. Finalmente. Sì bella palla per Memphis Depay. Vai Memphis. Vai Memphis. Il tiro di Depay. Check. La palla è ancora lì. Ancora check. Non ci posso credere. Ma che portiere è check. Incredibile. Siamo in semifinale. Siamo in semifinale di Champions League ragazzi. Battuta l'Arsenal. 1-0. Battuta l'Arsenal. 1-0. Meritata. Meritata. Non hanno dato forse un tiro in porta neanche. Abbiamo giocato benissimo. Abbiamo giocato benissimo. Sì. Tratiri in porta. Grandi ragazzi. Grande prestazione. Abbiamo raggiunto la semifinale di Champions League. E dall'altra parte è passato il Bayern. Quindi adesso io andrei un attimo ancora avanti con il calendario. Probabilmente si vedranno appunto i tabelloni. Vediamo. Si sa. Si sanno le semifinali. Si sanno le semifinali di Champions League. Wolfsburg, Bayern, Monaco. Schalke 04. Inter. Lo Schalke 04 che ha eliminato il Manchester City. Incredibile. Veramente incredibile. Quindi siamo contro lo Schalke. Non so se essere contento. Sinceramente non ne ho la più palia d'idea. Ma andiamo a vederci. Sto calcio di Schalke 04. Schalke 04 adesso è quinto. Il Wolfsburg è secondo. Quindi qualcosa... Qualche distacco tra le due squadre ci sarà. Quindi siamo andati anche abbastanza bene. Adesso campionato. Adesso campionato. Vediamo un attimo quanti punti abbiamo... Sono aumentati addirittura i punti dalla Lazio. Perché probabilmente nella scorsa partita la Lazio ha perso col Torino. Quindi la Lazio sta mollando. Probabilmente è contraccolpo psicologico. Andiamo a giocarci questa partita di campionato. Ovviamente qui proprio turnover a Yosa. Cioè quando copia a largo la mette in mezzo. Arriva Depay. Carrizzo esce bene. Poi Tielemans prova il tiro da fuori di testa. Non so perché abbia colpito di testa. Poco al caser. Depay. No. No. Era uscito... Si è fatto male. È grave? Infortunato Depay ragazzi. Non posso crederci. Devo cambiarlo. Devo cambiarlo per forza. Si è spaccato. Mares. Non male la palla per Paco al caser. Anzi è bellissimo. Paco al caser. Qua si divora un gol. Mamma che parata di DJ Naro. Grandissima parata qua di DJ. Paco al caser. Per Longo. Longo aspetta di nuovo l'arrivo di Paco al caser. Poi Paco al caser la mette per Baldini. Che la liscia clamorosamente. Baldini. Lancia Longo. Si può andare Samuel. Madonna ragazzi. Samuel Longo è una bestia. Il tiro di Longo. Carrizzo para. Ma qualche aser. Ancora Mares. C'è Longo in mezzo. Samuele Longo all'86esimo. La butta dentro. Lo volevo far fare a lui ragazzi. Volevo far segnare il grande Samuele Longo. Tanta gavetta. Per ora pochissime soddisfazioni per quanto mi riguarda. Dovrebbe forse andare in Serie B al momento attuale. Perché sta girando tante squadre in Serie A. Ma purtroppo trova poco spazio. Poco al caser. Attenzione perché c'è Longo in mezzo. Lungo. I mancino la tira fuori. Va a Birsa. La tira altissima. E finisce 1-0. La vinciamo noi. Con Samuele Longo. Andiamo a vedere però cosa si è fatto Depay e Inaki Williams. Perché comunque sono usciti entrambi per infortunio. Memphis Depay ha subito un'infortunio e sarà disponibile per 3 mesi. Frattura caviglia. 3 mesi di stop per Depay. Mentre Inaki Williams contusiona il gomito. 5 giorni. Quindi Depay stagione è finita. Non ci credo. E adesso ci avviamo la semifinale di ritorno. Contro il Milan. Ok direi che la formazione titolare ovviamente è d'obbligo. Possiamo andarci a giocare a questa semifinale di ritorno. Contro il Milan. All'andata 2-0 o 3-0. Non me lo ricordo. Milan-Inter. Questa sera dobbiamo staccare il pass per la finale di Coppa Italia. Il Milan non credo che si farà da parte molto facilmente. Qui vediamo la sua formazione. Musler, Adesilio, Vertonghen, Vergara, Abate, De Jong, Bertolacci, Poli. Buonaventura Luiz Adriano. I Niang. Vorrei vedere. Sì, abbiamo vinto 2-0 all'andata. Quindi sempre sul PES Forza Inter. Abbiamo un buon margine devo dire. Anche se il 2-0 è avvenuto in casa. Quindi non è ancora detto l'ultima parola. Attenzione a Luiz Adriano che se n'è andato. Rimani lì Varan. Rimani. Chiudi Bertolacci. Nardi. Che parata sul primo palo. Attenzione ancora il Milan però che sta prendendo fiducia. Luiz Adriano. Bertolacci. Niang. Ancora Musacchio. E questa sì che si chiama difesa. Attenzione a Mbaia Niang che se ne va a Varan e Musacchio. Ma non ha show. Poi si va a recuperare il pallone. Ancora Mbaia Niang. La larga per De Jong. Palo. Palo di De Jong. Gran sassata qui. Lewandowski. Per Cialanoglu che tira il volo. Mamma che gol che ha fatto a Cialanoglu ragazzi. Filippo e Anderson qui fortunatissimi. Poi Lewandowski lo vede. Ma Cialanoglu qua tira al volo. Tira al volo. Non l'ho messa a girare. Ho spinto il quadrato normalmente. Posizione per il Milan al 45esimo. Buona avventura. Da buona posizione. La mette in mezzo. E c'è il gol. Il pareggio di Bertolacci. Incredibile. Su Tielemans. Su Tielemans. Non stacca bene Tielemans. Bertolacci al 45esimo pareggia i conti. E finisce con il primo tempo. Attenzione a Buonaventura. Davanti a Nardi. Buonaventura. 2 a 1. La riapre il Milan. La riapre il Milan. Per il momento siamo avanti noi. Perché ho fatto comunque gol fuori casa. Però. Non dobbiamo rischiare più. Non dobbiamo rischiare più. Attenzione al Milan. E il Sharawi la mette in mezzo. Oddio mio. E il Sharawi l'ha messo in mezzo bene. E finisce qua. Andiamo noi. In finale di Coppa Italia. Abbiamo rischiato però. De merito nostro. Farli ritornare in partita. Abbiamo perso la partita. Perché abbiamo perso 2 a 1. Ma nei 180 minuti. Comunque. Siamo andati meglio. Quindi ricapitolando. Questa è la situazione in campionato. 10 punti dalla Lazio. Abbiamo. Abbiamo 10 punti dalla Lazio. 24 vittorie. 7 pareggi. 2 sconfitte. 63 gol fatti. 23 subiti. A pari merito con la Lazio. Questa invece è la situazione in Champions League. Siamo contro lo Schalke 0-4. E il Bayern Monaco è contro il Wolfsburg. Siamo in finale di Coppa Italia contro la Lazio. Che abbiamo battuto nella Supercoppa italiana a inizio stagione. 1-0. Nel prossimo episodio parete già subito fondamentali. Perché Roma. Schalke 0-4. Frosinone. E Schalke 0-4. Quindi nel prossimo episodio forse faremo andate e ritorno contro lo Schalke 0-4. Stiamo andando avanti con il sogno triplete. E io direi che può partire l'hashtag triplete. Noi ci proviamo ragazzi. E spero tanto di riuscirci. È tosta perché con l'Arsenal è stata veramente una bolgia. E l'abbiamo risolta con un miracolo di Cialanoglu. Quindi ragazzi. Io vi saluto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con la carriera natore con l'Inter. Un saluto da mezzo. E alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.